Per estorsione ai danni di Silvio Berlusconi, il senatore del PDL Marcello Dell'Utri arriva al Palazzo di Giustizia di Palermo per la prima udienza d'appello sull'altra vicenda, quella del concorso esterno in associazione mafiosa e sferra attacchi da manuale. Questi magistrati sono malati, sono morbosi, non lo vedete che ogni giorno ce n'è una. Si tratta di una costola dell'inchiesta sulla trattativa Stato-Mafia e in quest'ambito i PM avevano convocato per lunedì l'ex Premier come persona offesa e come testimone, ma il Cavaliere avrebbe fatto valere attraverso il suo legale Niccolò Ghedini un legittimo impedimento non presentandosi perché trattenuto in Brianza da un convegno su economia e politica. Convocata come persona informata sui fatti anche la figlia Marina. L'apertura di un nuovo fascicolo su Dell'Utri è di pochi mesi fa dopo la scoperta di passaggi di denaro tra l'ex Premier e il senatore palermitano e la vendita tre anni fa di una villa di Dell'Utri per 20 milioni contro un valore stimato nel 2004 poco più di 9. La procura di Palermo ipotizza che Dell'Utri abbia fatto pressione a Berlusconi minacciandolo di riferire fatti e notizie sui suoi rapporti con la mafia. Sono tutte fesserie, dice l'ex uomo di Pubitalia. La casa che era in vendita da due anni è stata stimata per 30 milioni di euro mentre Berlusconi l'ha pagata 20, quindi ci ho rimesso. È un processo politico, non l'avete capito? Fortuna che io mi lascio scivolare tutto addosso altrimenti mi sarei ammalato e invece sto bene. Fondamentale è sentire Berlusconi che in presenza di reiterate giustificazioni a non mettersi a disposizione dei magistrati potrebbe essere sottoposto ad accompagnamento coatto dopo autorizzazione del Senato. Sono arrivati da tutta Italia per ricordare Paolo Borsellino, il giudice ucciso dalla mafia il 19 luglio di 20 anni fa. Oggi il Popolo delle Agende Rosse si è dato appuntamento davanti al Tribunale di Palermo sugli striscioni la frase difendiamo chi indaga sulla trattativa Stato-mafia, riferimento e anche all'intervento del Capo dello Stato sulle intercettazioni con l'ex ministro Mancino. Col Popolo delle Agende Rosse anche il fratello di Borsellino, Salvatore, che a partire dalle 15 guiderà il corteo che arriverà al Castello Ottoveggio. Necessario, ha detto Borsellino, rimuovere tutti gli ostacoli anche ai livelli più alti per accertare la verità. Diversi gli appuntamenti di questo pomeriggio, tra tavole rotonde, conferenze e spettacoli teatrali. Alle 17 un corteo da Piazza Magione e Piazza San Domenico. Domani il clou delle manifestazioni con la fiaccolava a cui parteciperà tra gli altri anche il presidente della Camera, Fini.